Galoppe il 5, Ringo Starr, Galoppe il 6, Ratuti Lanz. C'è lotta la chiusura con la rottura anche di Rino d'Italia, c'è un Walzer sagre di rotture. Ne approfitta Ricercatore che va al comando. Con allargo Ronata Nover Fass, 13 e 2 lancio, freeway per il Fass di Gallucci. Parte bene Ramada così come Ruggiada. Lunga fila indiana al completamento e la piegate anche dei 400 in 28 e 3. Fà scatenato questo Donata Nover con Gallucci e così si va al completamento di 600 piuttosto micidiali per lo stato della pista in 42 e mezzo. Penultima curva, fa selezione per il momento Ronato a Nover Fass e precede Ricercatore, Ramada e gli altri. Mezzo miglio in 58 meno qualcosa, addirittura io ho 57,4. E così andatura a mozzafiato del Donata Nover che va a completare un chilometro di altri tempi se mai di oggi. 1,12 e mezzo. 500 alla meta. Cavalli che affrontano la curva finale. Ancora netto vantaggio del leader, ancora 14,7 di fronte, fa 1,27,2, tre quarti di miglio. Completamento la curva finale. Ronata Nover, un vero motore. Oggi la nuova griffa dei chiattoni animati, poi il 10 di Ruggiade e l'11 di Rino. Fa un numero, un canter da Circoletto Arcobalene, il Donata Nover dell'Avvocato Gragnaniello. Si salva la Ruggiade da Rino. 1,58 e 2, 1,13 e 9. Sì che la quota allora era questa, 2,46. Addirittura un regalo per chi l'ha giocato, perché quello che abbiamo visto oggi valeva no betting. Grazie alle cure speciali del team Finetti, bisogna dirlo, il ragionier Gallucci, che come al solito il compitino lo svolge nel modo migliore, è senza sì, è senza sbavature, è senza ma, chiaramente. Bene bene la lotta per l'altra corsa, quella del secondo e terzo, a vantaggio di Ruggiade su Rino Jet. 1,58 e 2, 1,13 e 9.